Musica Cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV Questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali del mattino 7.30 in diretta, poi in replica fino alle 8.30, alle 9.10, alle 13.30 Ma è sempre disponibile anche sul nostro sito internet, occhio a notizia.it on demand Cominciamo subito dal santo di oggi, santi credo di oggi, vediamo un po' No, San Clemente Primo Papa, il sole è sorto alle 7.13 e tramonterà alle 16.36 Ma oggi si ricordano anche come memoria facoltativa San Clemente Primo Papa Marte e San Colombano Abate Allora andiamo subito a vedere il tempo per la giornata di oggi, mercoledì 23 Mercoledì 23 di novembre, anche se a guardare e a sentire le temperature, insomma, pare più una primavera a volte Anche ieri 18-20 gradi, insomma, oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso al mattino Lungo la fascia costiera, ma in dissolvimento nel corso della mattinata Successivamente sarà sereno o poco nuvoloso per nuvole in transito stratificate Le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi Per la giornata di domani, giovedì 24 novembre, il tempo peggiora Con le precipitazioni che arriveranno dal tardo pomeriggio, anche se saranno deboli Più insistenti invece nelle zone dell'entroterra Al mattino, domani, avremo un cielo inizialmente però poco nuvoloso Poi nel pomeriggio, come dicevo, aumenterà la nuvolosità Le temperature sono stazionari, una lieve diminuzione nei valori massimi Attenzione alle foschie o ai locali banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata Anche venerdì il tempo sarà così così Infatti nella nottata e nella prima parte della mattinata avremo ancora precipitazioni sparse Quindi venerdì mattina a carattere di rovescio maggiormente nelle zone interne E le temperature sono ancora in aumento Tempo ancora leggermente instabile per la giornata di sabato Seguito da un miglioramento per quella di domenica Inizio della prossima settimana con possibile nuovo peggioramento Ma con scenario da definire per la notevole incertezza del modello previsionale Ieri sera su Rai 1 c'è stata la fiction La fiction Io ci sono, la storia di Lucia Annibale Una fiction bella, adesso vedremo intorno alle 10-10 e un quarto I dati dell'auditel che certificheranno il successo o meno di questa fiction Intanto ieri guardate i selfie che sono stati fatti con l'interprete Con la Capotondi che ha interpretato appunto Lucia Annibale Colpisce la fiction Io ci sono nell'anteprima pesarese Cristiana Capotondi che interpreta appunto Lucia Ammette di aver pianto più di una volta sul set Poi inaugura una panchina, la vedete qui nella fotografia Una panchina anti-violenza Controordine, la Benelli riparte, è revocata la sentenza di fallimento Buona notizia, decisione della Corte d'Appello I cinesi continueremo dunque ad investire Poi lo vedremo tra un istante Il pastore, una storia che arriva da Montenerone Il pastore che ha visto la Madonna, un bagliore E racconta lui, era altissima Poi tra un attimo vedremo anche le pagine dedicate alla sanità Dopo il voto dei sindaci, Muraglia era il sito più baricentrico Sono parole del governatore delle Marche Ceriscioli Poi la cronaca da Sant'Angelo Invado Un tartufaio muore nel bosco vegliato dal suo cane L'animale ha cercato inutilmente di guidare i soccorritori E allora andiamo nelle pagine interne Subito a vedere quelle dedicate alla sanità Due pagine dedicate alla sanità questa mattina sul resto del Carlino Ceriscioli tira dritto, Muraglia è una scelta obbligata Dice il governatore Decisivo il voto dell'Assemblea sull'area pubblica Il governatore spiega anche con quelle condizioni È il sito più baricentrico Ma se richiama a raccolta gli ex sindaci La mobilitazione di Fano nasce dunque così Aguzzi forse sarebbe meglio convocare quelli adesso in carica Giuliani dice un po' così in ordine sparso È un bene aver salvato Fosso Segiore dalla costruzione, dal cemento Baldarelli invece punta su Carignano E la spaccatura fanese Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del sindaco La Ruggeri è la solita buffonata Si sapeva da mesi che sarebbe andata a finire così Bacchiocchi del PD Il PD di Fano è stato leale e corretto Meritavamo più considerazione da parte di Luca Ceriscioli La pagina di Fano invece è incubo finito per quanto riguarda Per quanto riguarda i due incendi ai ristoranti del centro storico Ieri la polizia ha fermato un giovane, un giovane dell'Est Il titolo del resto del canino di questa mattina è Ristoranti incendiati, confessa il piromane Solo uno sbandato I titolari del locale Ora basta chiacchiere Le reazioni Vegliò Ora chi mi risarcisce dei danni L'altro titolare Certi sospetti mi hanno ferito Non dormivo Non dormivo più Insomma Il plauso del sindaco di Fano Fano Massimo Seri Elogia le forze dell'ordine La questura Per la professionalità E la tempestività Con cui hanno individuato il colpevole Di questi incendi Lo ricordiamo Nella ristorante Bella Napoli Al Tiravino Si ripone l'accento sulla velocità Nell'individuazione del responsabile Facendo luce sulle cause dell'atto Ed evitando anche quindi che il dibattito Prendesse delle pieghe Un po' particolari Questa mattina C'è una conferenza stampa Alle 10 In questura Conferenza stampa Che Fano TV Occhio alla notizia Seguirà in diretta Quindi Se volete Potrete seguirla Sia in televisione Sul canale 17 Oppure Tramite i cellulari Sul nostro sito Occhio alla notizia.it Oppure attraverso la nostra pagina Facebook Alle 10 Andiamo Sull'altra Pagina del resto del Carlino Gli albergatori Contro Paolini Non ceda Agli immobiliaristi Contestato L'invito a trasformare Gli hotel in appartamenti Capecchi E Cecchini Dicono È la politica Non voler Creare Le condizioni Per alimentare Il mercato E qui Dicono loro Il problema Non siamo noi Albergatori Ma la politica Fanese Che non crea Le condizioni Per alimentare Questo mercato Insomma Ni Un po' così C'è da essere d'accordo Ma fino a un certo punto L'Isippo Quel francobolo E l'ennesimo treno perso Chance mancata E Santini Critica la gestione Dell'operazione Nessuno Sa niente E sotto L'interquartiere Invece Avanti Tutta con i pannelli Ancora Sconosciuta La data Dell'inaugurazione Ma come dicevamo Insomma È probabile Che sia intorno O comunque Prima Di Natale Sono gli ultimi Collaudi Adesso questa storia di fede Che arriva da Da Pecchio Dal Monte Nerone Guardate questo signore Questo anziano Dice E racconta Di aver Visto la Madonna Era alta 8 metri Dice Dice Lui Un chiarore Fortissimo Aveva in braccio Un bimbo Era come se volesse Parlarmi Parla Celestino Puletti Un pastore Che 38 anni fa Ebbe appunto Questa visione mistica Sui monti Di Ape Le ho fatto Per ricordare Questa visione Un'edicola Sono sempre tornato Sul monte a pregare E a tenerla In ordine Le sue promesse Furono mai bovuto E all'epoca Non ero neanche Un cattolico Fervente Le sue premesse Non promesse Le sue premesse Come dire Non ero ubriaco Quello che ho visto È vero E non ero neanche Un cattolico Un cattolico fervente Quindi insomma Come dire Non ero neanche Un po' Invasato Quello che Uno che potrebbe Vedere la Madonna Dappertutto Il sonno Ed il risveglio Sognavo che un lupo Mi devastasse Mi devastasse Il gregge Invece Prima dell'alba Vidi lei C'è tutto il racconto Sulla pagina 7 Del resto del carlino Di questa mattina Adesso andiamo velocemente Sul Corriere Adriatico La prima Notizia In evidenza Sull'edizione di Pesaro È sulla cattura Sull'arresto Del giovane straniero Disoccupato Che è stato trovato Con a casa Un registratore di cassa Quello del tiravino Quindi insomma La pistola cosiddetta Pistola fumante Preso il piromeno Dei locali Fano si risveglia Dall'incubo Operazione Lampo Della polizia Arrestato Un giovane straniero Disoccupato La pagina invece Per i giudici Che hanno accolto Il reclamo presentato Dalla Benelli Benelli che dunque Può tornare a rugire La corte d'appello Ha revocato il fallimento Alla storica casa Motociclistica Pesarese Questa è la prima pagina Andiamo sulle Quelle interne Sanità Seri Conta gli alleati L'ex sindaco vicino Aguzzi c'è Forse I 5 Stelle Continuano a chiedere Di dimissioni Anche se i toni Usati ieri Dall'ex sindaco Di Fano Stefano Aguzzi Nel nostro telegiornale Erano diversi Brunori Di Noi Città Giusto valorizzare Il suo atto Di responsabilità Pucci Sosteniamo la maggioranza Pucci Il segretario Fanese Del Partito Democratico Sosteniamo la maggioranza Ma vogliamo L'ospedale unico Il segretario Dem Fanese Spiega le scelte politiche E quelle amministrative L'altra pagina Marche Nord Per me il caso è chiuso Dice Ceriscioli Il sito è Muraglia Basta discutere Ribadisce il Presidente La volontà di andare oltre Ma non ha fatto i conti Con i malumori Dei sindaci Che non sono pochi Non solo fanno Non solo Fanno a Piobico In campo anche Mocchi Non accettiamo Pesaro Chiaruccia È il sito Migliore Andiamo adesso invece Sulla pagina di Fano Del Corriere Ristoranti dati alle fiamme C'è un arresto Una cattura Per fugare l'ombra Del racket Incastrato dalle telecamere In casa aveva Il registratore di casa rubato Del bianco Del tiravino Dice mi chiedo Adesso però Il perché La città si è risvegliata Da un incubo Oggi i dettagli In una conferenza stampa In questura Come dicevamo A Pesaro Lo ribadiamo La potete seguire in diretta Su Fano TV A partire dalle 10 Turismo No a valutazioni grossolane Confcommercio e Coppa Alberghi Cooperativa Albergatori Rivendicano il valore Degli hotel Strigliando politici Addetti insipienti La strategia Un sistema diversificato Di offerte E senza il cambio Di destinazione d'uso In appartamenti Le nostre strutture Si attestano Su un tre stelle superiore Anche Lega Ambiente Ci premia Ok Poi l'atto ufficiale Sull'incorporazione Della Carifano Da parte del credito Valtellinese È stato firmato a Sondrio Questo atto di fusione Per incorporazione Di Carifano Spa nel credito Valtellinese La fusione avrà effetto Dal 28 novembre Così scrive il Corriere Questa mattina Sul caos traffico Altri due incidenti Countdown Invece contro la rovescia Per l'interquartieri Strade pericolose Mobilità sostenibile Da proteggere Si attende adesso La nuova arteria Feriti lievi Ma disagi Per gli automobilisti L'assessore Fanesi Dice stiamo rispettando Comunque i tempi Poi sotto si parla Di una gru Da 200 tonnellate Al lavoro In Via Roma Guardate questo gigantesco Braccio meccanico Che ieri mattina Appunto Era nel bel mezzo Della strada Per effettuare Lavori Sul tetto Del centro Direzionale Dalla Valle del Cesano Il turismo Ha scoperto La Val Cesano 10.000 presenze In più In un anno Boom A Mondolfo e Marotta Cresce anche San Costanzo Il bagnino Tinti Dice però C'è ancora molto Da fare Stabile invece La città di Pergola Dopo un incremento Di arrivi Che ha toccato Negli anni Il 115% L'altra pagina Della Valle del Cesano Centro salute Sì di terre roveresche Potenzieremo Tutti i servizi Medici E poi da Senigallia Abbiamo La pagina Principale Dove si parla Di spese Nel mirino Del ministero Ecco la difesa Punto per punto Appalte Incariche Dirigenti Ritribuzioni La parola Adesso passa Al comune E poi ladri E borseggiatori Sempre da Senigallia Inagguato Lo shopping È sotto sorveglianza È di 500 euro Il bottino del furto La boutique Loft 88 Fuga tra la gente E poi c'è La notizia Di un incidente Che ha coinvolto Un sacerdote Don Giancarlo Cade in Duomo Finisce all'ospedale Il parroco È inciampato E si è fratturato Una spalla Don Giancarlo Cicetti Lo vedete In questa immagine Che appunto Si è infortunato All'interno Della cattedrale Di Senigallia Dalla pagina L'ultima Di Peso De Provincia Colle al Metauro Ceriscioli Insiste Ma la fusione Trova altri contrari Non basta La lettera Dei sindaci Pesa Scusate Pesa il no Di Montemaggiore All'aggregazione E dunque Protestano Tra l'altro Carloni Di Alleanza Popolare I Pentastellati Il comitato del no Che è stato ricevuto In regione Qui vedete Il sindaco invece Di Montemaggiore Che ha firmato Ed è questa La cosa Che ha fatto andare Su tutte le furie Coloro I tanti cittadini Che hanno votato A Montemaggiore Per rimanere autonomi Quindi per non fondersi Con Serrungarina E con Saltara La lettera Che ha firmato Anche il sindaco Di Montemaggiore Che invece In precedenza Prima del referendum Si era già espresso Dicendo che se non Avesse vinto il no Probabilmente Insomma Sarebbe finita lì E Montemaggiore Sarebbe rimasta lì Dove Comunque Questa è Andiamo Andiamo Adesso andiamo In pubblicità Abbiamo le repliche Poi la Santa Messa Buona giornata Buona giornata Grazie a tutti